Siamo nella sede della Misericordia di Pescara, uno dei punti di raccolta dei generi alimentari e non solo, che tanti cittadini stanno portando già da ieri dopo la tragedia del terremoto. Massimiliano Scornano, avete già riempito un furgone, merce e generi di prima necessità che verranno consegnati alle popolazioni del terremoto? Per l'esattezza già due, perché un furgone è già stato riempito nel tardo pomeriggio di ieri ed è stato consegnato all'aeroporto di Pescara presso il reparto volo della Guardia Costiera. Quest'ultimo reparto si preoccuperà proprio dell'ultima consegna con l'ausilio dei propri mezzi. Noi adesso stiamo riempiendo un altro furgone di questi generi di prima necessità che sono, lo ricordiamo, acqua, per l'inizio è acqua, coperte, latte in polvere, sia per bambini che di qualsiasi genere, proprio per un primo intervento. Dobbiamo ringraziare obbligatoriamente tutta la popolazione pescare e comunque area metropolitana che grazie al loro grande cuore ci permettono di poter portare questo piccolo contributo alle popolazioni colpite dal terremoto. Grande generosità da parte dei cittadini pescaresi, tanta merce, tanti generi di prima necessità verranno consegnati a breve a queste persone che stanno soffrendo, stanno passando dei momenti terribili. Diciamo che la generosità è stata incredibile, direi anche commovente perché tutti si sono immediatamente attivati. Nel primo pomeriggio noi avevamo già la sede piena di tutti questi generi di prima necessità. Diciamo anche che i ragazzi che sono andati ieri in prima battuta lì hanno riportato le loro impressioni, ci hanno detto che gli scenari erano a dir poco inquietanti e diciamo che ci siamo commossi insieme perché insomma quello che si trova lì non è semplice. Ricordiamo, ha fatto bene lei a ricordarlo, che diversi uomini della misericordia di Pescara, uomini e donne, sono già lì nelle zone terremotate proprio dalle prime ore di ieri. Sì, una squadra è partita ieri ed è ancora lì e stanno per tornare. Un'altra squadra è partita stamattina alle 4.30 con l'ambulanza, con due infermieri a bordo perché in questo momento c'è bisogno di massima competenza e professionalità per dare l'aiuto che in questo momento è necessario diciamo. E poi nei prossimi giorni partiranno altre squadre per dare supporto a chi sta lì e anche il cambio perché ripeto, lo scenario è drammatico diciamo. Scorrano, per chiudere proseguirà la raccolta di questi beni di prima necessità, vogliamo anche ricordare per chi lo volesse dove bisogna recarsi. Allora, occorre fare una precisazione. Noi già da ieri sera sulla nostra pagina Facebook avevamo chiesto gentilmente di sospendere perlomeno momentaneamente la raccolta perché il reparto vola pura necessità di smaltire tutto quello che è stato stoccato. Prossimamente attraverso dei comunicati stampo, attraverso anche i nostri social provvederemo a dare ulteriori informazioni anche per sapere se dobbiamo cambiare tipo di genere alimentare da mandare nelle zone colpite dal terremoto.